Sant'Agostino rappresenta una pietra migliale della riflessione cristiana sulla Trinità. Dobbiamo addentrarci in qualche pensiero non semplicissimo, ma con calma proviamo a vedere alcuni passaggi. Si tratta del quarto video di questa piccola serie di sei video sul tema della riflessione cristiana sulla Trinità. Se l'argomento ti interessa basta iscriversi al canale per poter rimanere aggiornati anche sugli altri video. Ma partiamo! Agostino lungo tutta la sua vita riflette sul tema della Trinità, ma certamente l'opera in cui presenta il pensiero più compiuto è il suo De Trinitate. Proviamo a vedere com'è la struttura di questa opera. Possiamo distinguere tre parti di quest'opera importantissima di Agostino. Una prima parte in cui ci si occupa del tema dell'unità di Dio e dell'unità sostanziale di Dio. Una seconda parte dove invece la riflessione si sofferma più sul tema della persona e una terza parte su quelle che vengono chiamate le analogie psicologiche. Cerchiamo di capire meglio qual è la questione centrale della prima parte del De Trinitate di Sant'Agostino. Di per sé nella Bibbia, come abbiamo già visto, non si parla mai di Trinità. Non solo, ci sono anche alcuni passaggi dove sembra che il figlio, Gesù, è subordinato al padre. Facciamo un esempio, quando chiedono a Gesù, ma quando sarà la fine dei tempi, Gesù dice beh questo lo sa solo il padre. Oppure nella lettera agli ebrei si dice fu fatto di poco inferiore agli angeli. Insomma sembra che il padre sia Dio e il figlio non sia proprio Dio. E questo sembra in contrasto con la fede di Nicea che abbiamo già considerato nei video precedenti. Qual è la soluzione che propone Agostino a questa apparente difficoltà? Agostino dice che padre, figlio e spirito santo non indicano una gerarchia, cioè un maggiore, un subordinato e un subordinato di secondo grado, ma indicano semplicemente le relazioni d'origine che in Dio sono sempre eterne. Proviamo a leggere. Il figlio è inviato dal padre non perché uno è maggiore, l'altro è minore, ma perché uno è padre e l'altro è figlio. Uno è genitore, l'altro è generato. Uno colui da cui procede colui che è inviato e l'altro colui che procede da chi lo invia. E dello spirito si dice che nell'eternità è dono, nel tempo è donato. Agostino ci sta dicendo che in Dio non dobbiamo contare quasi tre divinità, ma che Dio in sé stesso è un insieme di relazioni che lo caratterizzano dall'eternità. Cioè il Dio dei cristiani non è un puro concetto, ma l'unico Dio da sempre è l'insieme delle relazioni tra padre, figlio e spirito santo. Per questo nella seconda parte dell'opera Agostino si occupa di chiarire meglio questo concetto di persone e di relazioni. Vediamo meglio. C'è una celebre espressione di Agostino che dice non tutto ciò che si dice di Dio, lo si dice sotto l'aspetto della sostanza, si dice anche sotto l'aspetto della relazione. Il concilio di Nicea ovviamente per Agostino ha fatto bene a sostenere che Dio è una sola sostanza. Dobbiamo tenere presente che siamo circa 50 anni dopo il concilio di Nicea. La memoria della controversia ariana è ancora molto forte e Agostino sente il bisogno di precisare che Dio deve essere considerato una sola sostanza e che padre e figlio hanno in comune la stessa sostanza. Ma questo non impedisce di pensare che in Dio ci sono delle distinzioni. Padre e figlio esprimono essenzialmente una relazione. Non c'è un padre senza un figlio e non c'è un figlio senza un padre. Questi nomi divini di padre e di figlio indicano allora che noi dobbiamo da sempre pensare l'unica sostanza di Dio con dei principi relazionali che la identificano. Voi pensate alla grande rivoluzione che questa roba che Agostino dice all'interno del mondo culturale in cui parlava. Cioè i filosofi greci arrivavano a mettere in conto che c'è un solo grande Dio unico, infinito, eterno, immutabile. E no, Agostino dice certo che dobbiamo parlare di Dio come di una sola sostanza. Ma dobbiamo anche considerare che da sempre Dio è un padre e un figlio. Il nome proprio dell'unico Dio è padre e figlio. E questo è il modo cristiano di pensare a Dio. E spirito santo? Perché di per sé spirito santo non è un nome che ha a che fare con una relazione. In realtà Agostino dice che San Giovanni nelle sue lettere e nel Vangelo parla dello spirito come dono. Ecco allora la peculiarità relazionale dello spirito. È il dono che si scambiano il padre e il figlio ed è il dono che il padre e il figlio fanno alla storia. Abbiamo visto nell'ultimo video che dopo il concilio di Costantinopoli si diffonde grazie al tomo sinodale l'idea che Dio sia una sostanza e tre persone. In realtà Agostino è piuttosto diffidente con il concetto di persona e dice mi sono chiesto in che senso si parli di una sola essenza e di tre persone? E ho risposto che sono le esigenze del linguaggio che vogliono che noi facciamo ricorso ad una sola parola per rispondere alla domanda che cosa sono questi tre. Agostino ha ben presente che Dio è un mistero che le nostre parole umane non riescono completamente a disinnescare. E allora dice va bene usare persona ma teniamo presente che Dio non è semplicemente l'applicazione di un concetto astratto persona che si usa per tutti e tre padre figlio e spirito santo. C'è un limite persona non fa riferimento a un concetto relazionale. Cioè noi pensiamo alla persona e poi si può pensare alle sue relazioni. Allora Agostino dice se si chiede cosa sono questi tre dobbiamo riconoscere l'insufficienza estrema dell'umano linguaggio. certo si risponde tre persone ma più per non restare senza dire nulla che per esprimere quella realtà. Agostino ci sta dicendo che prima di tutto Dio è un mistero da contemplare e non semplicemente una sorta di geometria di parole da trovare. Ma andiamo all'ultima parte del De Trinitate. Come si fa ad avere un certo modo di pensare e di immaginare Dio? La nostra intelligenza per Agostino non è in grado di farsi un'immagine di Dio che non sarebbe altro che un idolo. Però è anche vero che nella Genesi si dice che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Beh allora significa che nell'uomo c'è un'impronta di Dio e questo ci permette di poterci fare un certo modo di immaginare e di pensare al divino. Secondo Agostino nell'uomo c'è l'impronta più chiara di Dio che è l'amore. Se Dio è l'amore per eccellenza dentro la capacità di amare dell'uomo c'è un'impronta di ciò che è Dio. Tanto è vero che nella lettera di Giovanni colui che scrive dice Dio è amore. Pensare all'amore in cui c'è un amante, un amato e un legame che è l'amore potrebbe essere una buona analogia per pensare al mistero di Dio. Ma Agostino a un certo punto interrompe questa riflessione e dice che una luce abbaglia lo sguardo. Cioè si rende conto che il linguaggio sembra quasi troppo povero per esprimere che cos'è l'amore di Dio e che cos'è l'uomo che ama Dio. Gli studiosi si sono domandati perché a un certo punto quasi bruscamente Agostino dice questa strada non è percorribile. Una prima risposta che è andato interessante è che l'amore è più che un'analogia. Non lo puoi pensare, lo devi vivere per comprendere chi è Dio. L'analogia invece tra l'uomo e Dio che Agostino preferisce percorrere è quella del pensiero. Se ci pensiamo un istante la parola pensiero indica almeno due cose. Io ho un pensiero significa che ho la facoltà di pensare ma io ho un pensiero significa anche un contenuto di pensiero. Ho un pensiero sulla Trinità ad esempio. Agostino allora distingue tra mens e notizia. Pensare significa che c'è una facoltà di pensare, mens, da cui provengono i pensieri, notizia. E come non c'è una mens, c'è un pensiero che non si esprima in pensieri? Così non ci sono pensieri se dietro non c'è la facoltà di pensarli. Vanno assieme le due cose. Ecco per Agostino questa è un'immagine analogica importante per comprendere il rapporto tra il padre e il figlio. Il padre è l'origine, il figlio deriva dal padre ma i due sono impensabili se non simultaneamente. Da ultimo Agostino parla di amor. Quando io ho pensato una cosa sento anche un'attrazione o anche una repulsione per la cosa pensata. La volontà si muove verso un contenuto di pensiero. Il pensiero, la cosa pensata e ciò che mi muove verso la cosa pensata sono un tutt'uno della mia esperienza e si prestano appunto per comprendere un tratto del mistero di Dio. È complesso e affascinante il modo di Agostino di pensare alla Trinità ma vorrei concludere con un'immagine con cui invece Agostino inizia il suo De Trinitate. È un'immagine molto celebre che forse è già conosciuta. Agostino parla di questa specie di visione per cui vede un bambino che scava una buca e cerca di prendere dell'acqua e di metterla in questa buca. Agostino domanda a questo bambino cosa stesse facendo e lui gli dice che sta tentando di svuotare il mare e di metterlo in questa piccola buca e Agostino ovviamente dice che è impossibile. E allora Agostino comprende l'analogia. Cercare di comprendere il tutto del mistero trinitario è come tentare di svuotare il mare e metterlo in una buca. Ma attenzione per Agostino questa analogia non è la rinuncia a pensare. Agostino ci sta dicendo che prima di tutto Dio è l'accadimento in Gesù e di cui posso fare un'esperienza interiore. Ci sta dicendo semplicemente che la Trinità non è essenzialmente un pensiero. Ma prima di tutto la Trinità è un vissuto. È ciò che è Dio in sé stesso ed è l'esperienza che l'uomo può fare di Dio. Allora il primo luogo per la Trinità è la contemplazione e il pensiero cerca di comprendere ciò che nell'uomo si dà come esperienza di Dio. Nel prossimo video cercheremo di vedere meglio uno sviluppo di questa idea di Agostino nell'esperienza dell'amore che sarà proposta da Riccardo di San Vittore nel Medioevo. Se ti iscrivi al canale rimani aggiornato su questi video e ci vediamo al prossimo appuntamento.